Su iniziativa del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale si è tenuta ad Alessandria presso l'Associazione Cultura e Sviluppo la Serata Benedicta. L'incontro si è articolato in due momenti, in apertura un dibattito sul tema le scelte della resistenza cui ha fatto seguito la proiezione in prima visione assoluta del film I ribelli del Roverno del regista Maurizio Orlandi che racconta la presenza dei partigiani autonomi nell'ecidio della benedicta nell'aprile del 1944.